Allora sì, si torna a votare, sono le prime elezioni, il primo voto dopo il Covid, dopo il lockdown, che peraltro insomma non è che l'epidemia sia finita, oggi 123 morti in Francia, molto inquietante. Però insomma è molto interessante intanto vedere cosa è successo nella società italiana in questi mesi, dopo tanto parlare, cambieremo, saremo migliori, ma che siamo rimasti uguali, vediamo cosa è successo perché in fondo ogni turno elettorale, ogni questione politica ci parla anche di questo, soprattutto di questo. E poi il voto è una questione, intanto faccio una citazione che credo Diego piacerà, è una questione di centimetri, diceva il presidente della Roma, Dino Viola, il presidente dello Scudetto del 1983, perché diceva il gol di Turone era stato annullato in fuorigioco, che non c'era, il gol di Brio della Juve invece era stato convalidato e quello invece era un fuorigioco. Questione di centimetri, polemicamente con gli arbitri che giudicavano questi centimetri. Le elezioni e questo referendum in particolare è una questione di numeri, qui non voglio levare il posto a chi era Valerio, perché è una questione di numeri, perché sembrano gli schemi del calcio, 4-2, 5-1, 3-3, allora cerchiamo di fare chiarezza, 3-3 le regionali, un pareggio, 3 al centro-destra, 3 al centro-sinistra, però per la maggioranza sarebbe una vittoria in trasferta, se finisce così Zingaretti e Conte festeggiano negli spogliatori in mutande, si buttano nudi nella fontana, insomma sarebbe un trionfo. E sarebbe la tenuta di Puglia e Toscana. 4-2 significa che il centro-destra ne prende 4 e il centro-sinistra ne prende solo 2, però vuol dire che cede una regione, probabilmente la Puglia, allora si potrebbe dire colpa di Michele Emiliano, colpa degli altri che non hanno voluto fare la coalizione col PD, quindi Ivan Scalfarotto, quindi Antonella Laricchia, che è quella che ha, insomma, mandato a quel paese il premier Conte quando ha detto fate l'alleanza, le ha detto manco per sogno eppure è salita nei sondaggi. 5-1, 4-2 Salvini, che comunque potrebbe dire ho vinto quattro regioni, manco per sogno, l'avrebbe vinta la Meloni, l'avrebbe vinta Zaia, per lui sarebbe la cosa peggiore, perché la cosa peggiore in politica non è perdere, è vincere con i tuoi rivali interni. E a quel punto crisi di leadership, ci sono le indagini, le scene con i commercialisti, insomma non andrebbe benissimo. Mentre 5-1 significa che Salvini riesce nell'impresa fallita a gennaio di conquistare una regione rossa, quindi la Toscana, a quel punto si butta lui nudo nella fontana, chiede le elezioni anticipate, la fine del governo, e vediamo che fine faranno Zingaretti che finirebbe sotto assedio nel partito e Conte che finirebbe sotto assedio nella maggioranza. Come vedete è una questione di numeri. Una questione di numeri è il referendum sul taglio dei parlamentari. Da 630 deputati a 400, da 315 senatori a 200, se vincono i sì. La domanda è nulla di più facile. Vuoi un Parlamento più snello, più efficiente, con meno fannulloni, meno assenteisti, meno volta gabbana, anche peggio? Messa così non c'è partita, vincono le forbici, tagliatevi questi assenteisti, fannulloni e così via. Infatti tutti i capi partito, il gran completo, quasi tutti, sono per il sì. È tutto chiaro se non ci fosse la questione dei numeri, che è anche una questione di rappresentanza. In America, quando nacque la democrazia americana, c'era questa questione dei numeri e a un certo punto fecero addirittura la cosiddetta clausola dei tre quinti. Cosa vuole dire? Che uno schiavo valeva tre quinti di una persona libera e quindi gli stati schiavisti del sud avevano più voti perché gli schiavisti valevano anche quanto gli schiavi che naturalmente non potevano votare. In Italia, 1870, 20 settembre, se hanno i 150 anni la breccia di Porta Pia, prima votava il 2,2, poi il 6,9, poi tutti gli uomini. Nel 1946, finalmente tutti, anche le donne. Questo è il libro, in gergo si chiamava La Navicella, adesso non c'è più perché è online. E' il libro dei deputati e dei senatori del primo Parlamento repubblicano, eletti nel 1948. Alicata Mario, gruppo parlamentare comunista, è nato a Reggio Calabria il 9 maggio 1918, laureato in lettere, è entrato nel 1940 in contatto con i gruppi antifascisti, passa nel file del Partito Comunista, arrestato nel 1942 e deferito al Tribunale Speciale dello Stato. E poi c'era subito, nella pagina successiva, Almirante Giorgio, che invece era fascista, si era ruolato nella Repubblica Sociale Italiana. E poi Amendola Giorgio, comunista, e Giulio Andreotti, Andreotti Giulio, del gruppo parlamentare democristiano. Insomma, in quel Parlamento c'era tutto. C'erano anche i fascisti, anche i monarchici, perché il bello del Parlamento è che se vincono i democratici, ci sono anche gli antidemocratici, il contrario l'abbiamo visto sempre molto meno, anzi non l'abbiamo visto mai. Ma perché prima si pensava di una riforma, ma questa riforma, questo Parlamento, include o esclude? Include o esclude? Rappresenta o non rappresenta? Oggi invece si discute, è il tema del referendum di domenica, di tagliare gli eletti, i deputati e i senatori. Nel frattempo si sono autotagliati gli elettori, prima votava il 90%, oggi vota a malapena il 70%. E infatti nelle elezioni si parla molto poco di quello che succede nel Paese, per esempio che vota in Puglia, ma si è parlato pochissimo, di Ilva e di tanti altri stabilimenti in crisi. E soprattutto non si è parlato di quello che succede nel Paese. Tre posti simbolo di questa settimana e di questi giorni. Colleferro, Willy Duarte, Acerra, Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa dal fratello perché aveva un amore irregolare. Ma tutti gli amori sono irregolari. E Como, dove è stato assassinato a coltellate Don Romberto Maggesini. Un cane sciolto di Dio, a caccia di anime, ferite, irregolari, maledette. L'ha definito così in un'intervista molto bella di Gaglia Tortora su questa rete, Don Marco Pozza, un altro prete di strada di Padova. Non sono periferie, non c'è il degrado, è il corpaccione di questo Paese senza rappresentanza. E poi arriva il circo mediatico, e poi arriva la muta dei social, e poi arrivano gli intellettuali che vogliono essere tutti un po' Truman Capote, e tutti scrivono a sangue freddo, in questa terra non più abitata da nessuno e che a un certo punto si popola di giustizieri, di vittime offese e calpestate, e poi offese e calpestate una seconda volta, come hanno fatto quelli che hanno detto Don Roberto è stato ucciso da un immigrato tunisino, ecco la violenza degli immigrati. Ma questo significa uccidere Don Roberto una seconda volta. Nessuno racconta più questi posti e queste persone, nessuno li rappresenta, e questa non è una questione di numeri, quindi torniamo a votare, buon voto a tutti, non so se vinceranno le forbici, ma so che verrà il tempo un giorno di ricuscire.